Stop ai cellulari in classe, è ufficiale il divieto di utilizzarli durante la lezione alla base della circolare diffusa nelle scuole e firmata dal ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, c'è uno studio condotto sui rischi della salute dei ragazzi che possono derivare dall'uso dei cellulari, derivata anche da un'indagine conoscitiva realizzata nella scorsa legislatura dalla settima commissione del Senato sull'impatto del digitale sugli studenti con riferimento ai processi di apprendimento con indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. Smartphone bandito quindi dalle aule, essendo l'evento di distrazione propria ed altrui, ma anche indice di una mancanza di rispetto verso i docenti laddove si utilizzi, proprio come stabiliva già nel 98 lo statuto delle studentesse e degli studenti da circolare ministeriale 30 del 2007. Resta tuttavia consentito l'uso sia del cellulare che di altri dispositivi elettronici su autorizzazione del docente, in conformità con i regolamenti di istituto per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale e della Cittadinanza Digitale. Dichiare il ministro Giuseppe Valditara, l'interesse delle studentesse e degli studenti che noi dobbiamo tutelare è stare in classe per imparare seguendo le lezioni in modo proficuo, senza distrazioni e nel rispetto della figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. La circolare richiama il corpo studentesco alla responsabilità e non prevede introduzione di sanzioni disciplinari, con l'invito alle scuole di garantire rispetto delle norme in vigore e a promuovere, se necessario, delle integrazioni più stringenti circa regolamenti e patti di corresponsabilità educativa, per impedire nei fatti l'utilizzo improprio dei dispositivi. A condividere lo scopo della circolare ministeriale, anche il presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti ed Altre Professionalità della Scuola di Caltanissetta, Maurizio Lomonaco, che dichiara, come dirigente scolastico, condivido la posizione del ministro che ripetisce sostanzialmente un divieto del cellulare in termini di mezzo di distrazione, lasciando ai docenti e ai regolamenti di istituto la possibilità di consentirne l'utilizzo ai fini didattici, quindi sia al cellulare come strumento didattico, inclusivo, no come strumento di distrazione.